I sì e i no della Chiesa abruzzese in vista delle prossime elezioni regionali. C'è una nota della CEAM alla Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana, a firma del Presidente Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chietivasto, che è un vero e proprio manifesto delle priorità che, secondo i Vescovi, i candidati presidenti devono rispettare per la collettività. Monsignor Forte afferma che i Vescovi abruzzesi si sono confrontati tra loro con l'auspicio che tutti gli elettori esercitino i loro voti. Partiamo dai sì. Sempre nella nota della CEAM e di Monsignor Forte si parla di sì all'accoglienza dei più deboli e di chi bussa alle nostre porte, con un appello all'Europa dei popoli per gestire l'emergenza migranti. C'è poi il sì all'impegno di contrastare le povertà e di favorire il lavoro, soprattutto quello giovanile, e il sì a una sollecitudine maggiore per la ricostruzione post-sisma. Ancora sì alla salute come bene comune, pur convenendo, si legge nella nota, l'urgenza del riassetto della rete ospedaliera. C'è il sì alla tutela dell'ambiente, alle fonti rinnovabili, alla gestione oculata dei rifiuti, alla qualità dell'acqua. Poi, prosegue ancora il comunicato, ci sono i no, che vanno detti, dice Monsignor Forte, ad ogni logica di esclusione. Parimenti va rifiutato ogni atteggiamento di rinuncia al cambiamento e alle audaccia imprenditoriale, come ogni operazione di delocalizzazione rivolta unicamente al maggior profitto. La conferenza episcopale ha deciso inoltre di istituire un osservatorio territoriale sulla promozione del bene comune. Intanto, il 23 gennaio, domani, nell'aula magna del rettorato dell'Università d'Annunzio di Chieti, Monsignor Forte ha chiamato a raccolta le autorità istituzionali, civili, parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali per il tradizionale appuntamento in chiave etico-spirituale per quanti sono chiamati al servizio del bene comune. Invito esteso, immaginiamo, anche e soprattutto ai candidati alla presidenza della Regione nella politica, in senso lato ovvio, della Chiesa Cattolica Abruzzese Molisana.